ola camon lovers benvenuti al primo video tutorial professionale di taglio di camon in italiano io sono mirko giannella e oggi vi mostro come tagliamo un camon iberico dove iniziamo dalle parti di un camon abbiamo cinque parti fondamentali di un camon la prima la mazza la principale in continuazione la contra seguimo con la punta opposta alla mazza la babiglia e terminiamo con il carrete la parte principale di un camon e la mazza quella con più infiltrazioni grasso la parte più ricca dove andremo a staccare il maggior rendimento di un camon a continuazione la contra la punta che la zona più ricca a livello gustativo con più grasso la babiglia la parte opposta alla mazza quella più stretta con meno infiltrazione di grasso e terminiamo con il carrete una parte fibrosa ma con tanto gusto abbiamo visto le parti di un camon ora andremo a vedere quello che ci serve per poterlo tagliare